Salve a tutti da Riccardo Zarfati, benvenuti a Portafoglio ETF, analisi dei mercati finanziari con gli indicatori Aikinashi. Vediamo oggi l'operatività per il primo giorno della prossima settimana, lunedì 18 gennaio. Questi gli strumenti, tutti ETF disponibili su borsa italiana, tre indici e tre materie prime. Vediamo come si è chiusa la giornata, molto molto negativamente, diamo subito uno sguardo al tabellone, Italia a meno 3,07%, Germania a meno 2,54%, Standard & Poor's in questo momento, diciamo un'ora dopo la chiusura dei mercati europei, meno 2,90%. Salta subito all'occhio guardando alle materie prime il petrolio che fa un deciso affondo e va a trovare nuovi minimi pluriannali. Meno 6,41% la variazione, 29 dollari al barile il prezzo che sta toccando, diciamo, in questi momenti. Non ci sono stati dei dati macro così rilevanti oggi che hanno guidato questa debacle dei mercati. Prezzi al consumo Italia non danno surprese, 0% era e 0% diciamo rimane. Anche le vendite al dettaglio statunitensi sotto le attese, meno 0,1%, ma insomma non un dato così preoccupante. Si dà la colpa ovviamente al caldo del prezzo del petrolio. Questo in teoria dovrebbe essere un fattore che dovrebbe favorire le economie che non producono petrolio perché ci sono dei costi di approvvigionamento energetico ovviamente inferiori, ma chiaramente diciamo che è un indizio di un rallentamento generale dell'economia globale e chiaramente i mercati stanno pagando. Poi c'è un'avversione al rischio che si abita su se stessa. Non sappiamo se questo profondo ribasso odierno sia un po' il sell-off finale. A breve vedremo gli indicatori tecnici e la posizione delle nostre candele. C'è questa possibilità chiaramente perché siamo su un primo livello di supporto piuttosto rilevante. Per finire il quadro, le altre materie prime, ora abbiamo detto 1,70%, quindi ne approfitta, bene anche il corno è 0,84%, in questi casi euro-dollaro va a rialzo. 1,06% e siamo tornati in area 1,10% che ricorderete era un po' il livello spartiacque tra rialzo e ribasso di qualche tempo fa, diciamo un po' il livello mediano di questo trend laterale al quale stiamo assistendo ormai da quasi un anno su euro-dollaro. Candele subito a questo punto, vediamo com'è la situazione grafica, chiaramente è un momento non particolarmente facile per investire, sino chiaramente a ribasso, ma questo è ovvio. Vediamo l'ETF MIB, eccolo qua, vedete naturalmente una candela rossa, dopo l'abbandono della trendline rialzista i prezzi hanno velocemente approfondito. Da un punto di vista tecnico diciamo che generalmente quando queste rotture di trendline avvengono i prezzi vanno a testare un'area prossima al precedente swing rialzista che nel caso dell'Italia è quota 18.000 che sono praticamente i minimi dello scorso anno. Non manca poi molto, oggi la chiusura è stata 18.98 per questo ETF, per cui l'area 18 non è una cosa ormai così impossibile da immaginare. Siamo in ipervenduto, ma c'è ancora qua spazio per un qualche picco eventualmente. Chiaramente è difficile sempre fare previsioni. questa è vero che è anche una prima area di supporto, per cui qua qualche rimbalzo preliminare ci può anche essere, perché vedete qua i prezzi area 19.000 è stata spesso importante nel tempo su questo strumento, per cui da questo livello un qualche rimbalzo ci può essere. Però attenzione ad acquisti, perché chiaramente probabilmente il target vero è più da queste parti che non in area 19, ormai già praticamente raggiunti. Sul DAX abbiamo una situazione simile, vedete naturalmente Candela Rossa, anche qui forte per venduto, e qua siamo arrivati su una soglia di supporti statici piuttosto importanti. Questi sono i minimi di ottobre, di quattro mesi fa, ricorderete un po' la crisi cinese, e siamo praticamente dopo questa bella escursione rialzista ritornati al punto di partenza. Anche qua c'è un livello grafico, appunto area 82 per questo strumento XS1 che segue il DAX al rialzo, c'è un livello di prezzo particolarmente importante, diciamo che questa è un'area dove qualche rimbalzo, o almeno qualche rimbalzo potrebbe essere assolutamente ragionevole, diciamo tra quest'area tra 80 e 82. Vedremo per il momento Candela Rossa, prezzi che stanno andando molto velocemente, per cui sarà anche probabilmente necessaria qualche giornata di stabilizzazione prima di vedere di nuovo Candela Verde. Indice americano, anche l'indice americano sta andando giù piuttosto veloce, questo è il TFIUSE, mettiamo in una posizione più legibile, eccolo qua che segue Statenpur 500 a rialzo con leva 1. Qua siamo arrivati su un primo livello di supporto, i minimi di ottobre, però attenzione perché c'è possibilmente anche spazio per arrivare a testare un minimo particolarmente importante per il medio-lungo periodo. Questo picco che vedete qua sono i minimi di ottobre dello scorso anno, del 2014, e con questa velocità non è più affatto da escludere che questi prezzi vengano raggiunti. Diciamo che qua abbiamo avuto una visura di 42.84, questo livello di prezzo era in area 41, per cui anche in questo caso non manca molto. Passiamo alle materie prime, l'oro reagisce dal punto di vista dei kinashi, però non c'è ancora una Candela Verde. Questa era un'area di supporto, l'avevamo già evidenziato, per il momento non c'è ancora una chiara reazione. Certo, uno si aspetterebbe una reazione un po' più decisa all'oro, soprattutto con questo forte ribasso dei mercati, per il momento questa reazione non c'è. Per cui possibile qualche tentativo di ripristino rialzista, ma a mio avviso questa resistenza comincia a rafforzarsi nel tempo. Passiamo al corn, anche per il corn è un piccolo rialzo, ma certo non è un trend esplosivo. Comunque ancora Candela Verde, posizione rialzista ancora valida e ricordo comunque sempre per chi fosse intervenuto di lasciare lo stop al momento sempre in area 4,5. Oggi chiusura 4,73. Infine il petrolio, qua come spesso succede, è successo nelle ultime giornate, c'è poco da dire. Oggi meno 3,95 lo strumento, Candela Rossa. Qua non ci sono molti riferimenti grafici a cui vedere, bisognerebbe andare indietro di circa 12 anni, vi posso dire sulla fiducia che c'è qualche supporto grafico in area 26. Oggi diciamo 29 dollari al barile, per cui eventualmente c'è ancora un po' di spazio. Comunque per il momento Candela Rossa è trend che rimane profondamente ribasista. Bene, questo è tutto, per cui settimana che si chiude molto male. Prezzi su un primo livello di supporto a questo punto, possibile qualche ribalzo all'inizio della prossima settimana, ma non è affatto di escludere che si vada a testare i livelli di supporto principali che sono un po' più in basso. Ne approfittano le materie prime e naturalmente l'eurodollaro, mentre per il petrolio non c'è pace e va a fare nuovi minimi pluriannali, toccando i 29 dollari al barile. Questo per ricordarvi di visitare onehourtrading.it, registrazione gratuita, abbonamento al servizio, permetti di ricevere indicazioni operative di acquisto e vendita ETF. Ricordo che in questo momento siamo arrivati in questa fase con il nostro portafoglio totalmente liquidi, per cui questa la vedrei come un'opportunità per ricominciare nelle prossime giornate a reinvestire cautamente sui mercati. Questi sono i miei contatti per chi volesse avere qualche ulteriore delucidazione o aiuto o informazione su questa operatività o naturalmente anche su quella in abbonamento. È tutto per oggi, naturalmente buon fine settimana, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo lunedì per un nuovo appuntamento. A presto!